Buon pomeriggio, Laura. Buon pomeriggio. Allora, siamo a 4 giugno dagli altri campionati. Finalmente è finito il calcio del piatto. Si vedono in tutti i colori. Anche se lo sapete, diciamo, si è mosso perché. Cosa hai pensato di questo campionato che sta aprendo? Soprattutto hai visto gli acquisti che hanno fatto delle altre squadre? No, vedo che sarà un campionato molto pareggio come il dell'anno scorso. Un campionato in cui ci saranno tante squadre importanti a un livello simile. Quindi penso che sarà un bel campionato. Speriamo noi di essere all'altezza di questo. Ecco, parlando proprio del tuo spazio, a me ne sono anche la nata scorsa. Come vedi, diciamo, dal punto di vista di quelle che sono le potenze di tante squadre in questo campionato? No, ci vedo meglio perché abbiamo l'esperienza di stare insieme un anno e ci sono aggiunti altri ragazzi anche importanti, buoni giocatori con esperienza. Quindi penso che questo anno sarà buono. Io, se l'ho detto magari a Leo, io sono una persona di fede, credo. Io preferisco credere a non credere. Sono così, per quello vado in chiesa, credo in Dio. E quindi io voglio credere in un'esperienza che lotterà fino alla fine per andare in Serie A. E come le ho detto una volta a lui, voglio rimanere nella storia dell'esperienza. Quindi faremo, per me e penso che tutti i miei compagni pensiamo uguali, faremo del tutto per arrivare a questo, senza pressione perché non ci mette nessuno pressione, però con la consapevolezza che stiamo lottando per una maglia che merita dare di più. Sì, sì. Tanti, tanti, tanti momenti ho pensato su questo. E veramente questa proposta c'è stata, era una proposta molto buona economicamente per me, con un mister che mi voleva tantissimo, che lo conosco. Però sinceramente io vado tra altre cose, non solo tra i soldi, ovviamente, che mi piace come tutti. Però è il mio lavoro anche questo. Però io vado tra altre cose, in questo momento Spezia mi dà la possibilità, magari non sarò all'inizio, non giocherò, però la Spezia mi dà la possibilità di lottare per una cosa che per me è molto importante. Quindi quando la Spezia mi ha detto se potevo tornare, io non l'ho pensato due volte. Cos'è ti ha lasciato il campionato dell'anno scorso? Perché abbiamo quasi un canto sulla guardia, se magari quella guardia sdoppia, nelle guardie finale. Noi mi sono domani, diciamo, la parte finale della battita, che è stata quella più calda, e un tuo compagno di squadra, perché ce l'ho fatto, diceva che è mancata la cazzina, ma la risposta di una puntata, forse è un po' qualcosa in più. Secondo te potrebbe arrivare a prestare, cioè, dal tuo sentimento di modi, o in cui le esperienze dell'anno scorso, per fare la battita? No, penso che tutte e due. Perché secondo me, noi che siamo stati, che abbiamo vissuto quella partita, ora, se ci tocca una situazione simile, sappiamo cosa fare, perché, sinceramente, vogliamo non arrivare a play-off, cioè, arrivare più su del play-off. Però, se ci tocca a play-off di nuovo, sappiamo cosa dobbiamo fare, perché sono partite che uno deve stare più attento, risparmiare energie, perché dopo ti tocca un'altra partita, quindi bisogna gestire. Penso che con quelli che sono arrivati ora, Terzi, Calaio, anche ragazzi con meno anni, però anche con esperienze, come Martic, sono ragazzi che veramente hanno qualità e hanno esperienze e gli possono dare tanto a questa squadra. Ho capito bene, ci sono state per te, per te, per te? Speriamo, sarebbe buono. Sì, forse mi è capitato quando ero in Argentina, con compagni, con ragazzi che ci conoscevamo da tanti anni, però qua si respira un'aria diversa, quindi il mister anche trasmette questo, e penso che tutti crediamo, tutti crediamo che possiamo fare qualcosa di più, quindi per la possibilità che mi dà la Spezia di giocare nel calcio italiano e per questa aria che si respira qua, di voler crescere anche la società, vuole andare su, vuole fare qualcosa di più, quindi si vede tutti, tutti negli occhi delle persone si vede che vogliamo fare qualcosa di più, quindi penso che questo ti fa anche essere più allegre all'ora di tornare o di un giocatore che arriva. Sul calendario sei come un po' di cartella di contento di avere subito gli impegni così gravosi, come dicevo, appunto meno affrontare subito come storia importante, isolarsi, piuttosto che insomma incontrare certe strade sulla carta molto forti che ho amato. Sì, secondo me dipende, dipende tanto dai momenti delle squadre, penso che noi anche guardiamo più cosa facciamo noi e non guardiamo tanto agli altri, pensiamo fare le cose bene noi, io penso che se questa Spezia si allena bene, è concentrata in ogni partita, è una Spezia forte, che può vincere con tutte le squadre, e in tutti gli stadi, quindi non sono tanto preoccupato per il calendario, però anche come Kate penso che non è buono. Mi dici tre squadre che vanno in Serie A? Tre squadre? Spezia, spezia, spezia. No, no, non so, non so, non so di fare pronostici, veramente. Penso che non è... vedo, ti dico, vedo molto bene, che non dico che vanno in Serie A, però vedo molto bene le squadre che affrontiamo ora, il Bari, vedo molto bene Cagliari, ci vedo bene noi, penso che sono quelle squadre, però sempre, la sorpresa è stata l'anno scorso, il Carpi, il Frosinone, nessuno pensava in loro, e sono andati in Serie A, quindi nel calcio non è niente sicuro, quindi preferisco non fare il pronostico. E per quanto riguarda la tua posizione, diciamo come dicevi che tu prima, artirai, diciamo, dietro il titolare, come vede questa situazione, perché per un nome piccolo, che è capitano, per un nome di la vita, per fare la bambina, per te com'è questa situazione? No, non mi piace, perché voglio giocare, è la verità, però, però sì, quello che mi piace, è l'ambiente che facciamo tra noi, che penso che abbiamo una competenza, e lavoriamo così bene, che non è che uno mette il muso quando non gioca, o uno parla male del compagno quando non gioca, io sono di queste persone, che preferisco aspettare la mia opportunità, e anche penso che se al mio compagno gli va bene, la squadra va bene, è meglio per tutti, quindi penso che qua siamo per un obiettivo più gruppale, che tanto il personale. ragazzo per un obiettivo, e qui non se non è, e qui non è che non lo altro, e qui non è cosa che magari ho mettere a qualche punto, primavera una domanda cosa, quindi non è quello che va bene, ma sarà una domanda No, ringraziare prima di tutto perché i tifosi sono stati bravissimi tutto l'anno scorso, fino a che sono arrivato io, io mi ho sentito come a casa, anche le dicevo ai miei compagni che il tifo qua a Spezia si sente tanto. Noi vogliamo essere quelli che contagiamo a loro, quindi con il nostro atteggiamento, con le partite ben fatte, quello che voglio dire è che lo posso dire io, però lo diranno tutti, lascieremo tutto per la maglia perché siamo veramente coinvolti con questa maglia, vogliamo che la Spezia diventi grande veramente, più grande di quello che è, quindi vogliamo dare tutto. Dopo nel calcio Dio dirà se vinciamo o non vinciamo, però da parte nostra il nostro atteggiamento sarà sempre il migliore.